Mentre cresce l'attesa per il musical The Record, che vedrà Lanciano esibirsi per tre sere consecutive il cast originale di Notre-Dame de Paris, sopra il luogo tecnico all'arena del Parco Villa delle Rose per fare il punto dei lavori. Tra qualche giorno sarà rimossa la recensione del cantiere con la riconsegna al comune. Alla sistemazione del verde si penserà in autunno, adesso tutta l'attenzione è per l'evento clou dell'estate lancianese. La cavea si estende su 5.500 metri quadrati, potrà ospitare 4.000 spettatori a serata per un numero complessivo di 12.000 presenze. Nessun problema a riempire lo spazio, la prevendita è quasi sold out, dice al TG Max l'organizzatore Maurizio Trevisan, già presidente del Comitato Fesse di settembre. Eh beh certo sì, direi proprio di sì, se mancheranno mancheranno proprio poche centinaia, ma a questo punto non credo, perché c'è molto fermento, quindi insomma è uno spettacolo che tra l'altro ha riscosso molto successo in tutta Italia, quindi ero sicuro insomma di, almeno sotto questo aspetto, di avere un descritto successo. In anteprima al TG Max il palco delle Rose, nel rendering di progetto. L'organizzazione dei tre spettacoli lancianesi è affidata a musica e eventi di Trevisan con best eventi di Pescara. A sopralluogo hanno partecipato anche il vice sindaco Danilo Ragneri, che ha deleghe a cultura e turismo, e gli assessori Paolo Bomba ai lavori pubblici e Tonia Paolucci al decoro urbano e sicurezza. Il musical Notre Dame de Paris quest'anno celebra il ventennale, in tournée con il cast originale. Saranno quindi a Lanciano Lola Ponce, Esmeralda, e l'abruzzese Gio di Tonno, Quasimodo. Tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, la versione italiana dello spettacolo curato da Pasquale Pannella, con le musiche eterne di Riccardo Cocciante, appassionato in questi anni più di 4 milioni di persone. A Lanciano sono attesi spettatori da tutta la regione e anche dalle regioni limitrofe. Grazie a tutti.